Rispetto allo scorso anno, la fiducia dei cittadini italiani nel governo è aumentata di 15 punti La fiducia nel Presidente della Repubblica è cresciuta di quasi 11 punti quella nel Parlamento di 8 punti quella nella magistratura di 9 punti e quella nei partiti di quasi 6 punti Secondo noi questo è un segnale estremamente interessante è un segnale che non può essere trascurato A noi sembra un vero e proprio piccolo patrimonio da coltivare Un patrimonio che affidiamo con questa giornata alla cura di quanti e sono numerosi hanno ancora a cuore le sorti di questo paese Si ricorda che dobbiamo amare e preservare la terra perché è l'unica che abbiamo Lo stesso però andrebbe detto per il nostro paese Dobbiamo dunque amarlo, proteggerlo Invece di dividerci dovremmo prendere insegnamento dagli americani che dicono indipendentemente dal fatto che stiano al governo o all'opposizione Right or wrong, this is my country Military men are dumb, stupid animals Tradotto, torto ragione, questo è il mio paese Noi non riusciamo a farlo mai Che diceva che c'erano epoche critiche, epoche organiche In una sorta di quanto mai elegante quanto formalistica dicotomia Noi che lavoriamo invece sulle dicotomie in maniera dialettica Diciamo che le epoche sono sempre critiche Un saluto devoto in questo caso a Sua Eccellenza Monsignor Rossi Vescovo di Cività Castellana ma intelligenza superiore a disposizione della A new world religion Della Chiesa universale It's a great brainwashing process which goes very slow and it's divided in four basic stages E' stato presentato il rapporto annuale, il rapporto 2018 di Transparency International The first one being demoralization Questo è il rapporto di Transparency dove dice che noi siamo corrotti Most of it is done by Americans to Americans Thanks to lack of moral standards As I mentioned before Exposure to true information does not matter anymore A person who was demoralized is unable to assess true information The facts tell nothing to him Anzi noi siamo corrotti più, più, più del Rwanda Never, ever give up Noi ovviamente non vogliamo, non intendiamo sostenere che l'Italia sia immune La corruzione della corruzione Il nostro paese, e ve lo dice il rappresentante di un istituto che è sempre stato duro, critico Che non ha mai fatto mancare le osservazioni, che non si è mai tirato indietro, che non può essere acquisito Il nostro paese è anche meno corrotto di altri Che reagisce alla corruzione più degli altri Che non la tollera e che combatte il malaffare e oggi lo previene anche meglio degli altri E che abbiamo appena varato una legge sulla corruzione che non sarà perfetta, ma di sicuro Noi siamo il paese in cui le forze dell'ordine e la magistratura inquirente operano molto più che altrove nella lotta al malaffare E questa è un'evidenza che si basa su dati scientifici 철도성 전사들은 Politicamente corretti 전체, 이민군, 장병들과 Ed intellettualmente honesti Mr. Trump, you've done great things in your life And I just wonder how do I, as an average person, begin? Well, first of all, never think of yourself as average You started off with the wrong question Because you're not average You've got a lot going I see you're smart I see you're very beautiful Abbiamo un sistema dell'informazione assolutamente libero La magistratura, come è noto, non dipende da nessuno, è completamente libera Cose che negli altri paesi non ci sono Come diceva qualcuno, il nazionalismo è l'ultimo rifugio dei mascalzoni Chi non vuole bene al proprio paese è mascalzone come quelli di prima, come quelli che dicevamo prima